Ben trovati amici di pianetalecce.it al nostro consueto appuntamento con le quote offerte da Bett Italy, main sponsor dell'Unione Sportiva Lecce. Dopo le festività ci sono tantissime novità in arrivo, intanto la possibilità di scommettere sulla Serie D e poi ancora nuove modalità di gioco di cui vi parlerò nei prossimi appuntamenti. Come di consueto ho voluto prendere in considerazione alcuni tre match più importanti di questo fine settimana calcistico, primo fra tutti Lazio-Napoli. Una Lazio reduce da un pareggio nel derby capitolino, mentre dall'altra parte il Napoli da una sconfitta contro la Juventus. Sicuramente la voglia di riscattarsi di entrambe le squadre ci fanno pensare ad una partita ricca di gol. Gol che è quotato a 1,73, mentre l'1 a 2,60 e il 2 a 2,75. Poi ancora Milan-Atalanta e i rossoneri sono ottavi in classifica, mentre i bergamaschi sono reduci da ben tre pareggi di fila. Entrambe le squadre quindi sono alla ricerca di punteggio, per cui in effetti in questo caso l'over è quotato a 1,95, mentre l'1 a 1,52 contro il 2 dell'Atalanta che è quotato a ben 6,75. Ultima ma non ultima dei nostri pensieri è sicuramente la partita che si terrà tra il Lecce e il Barletten, una squadra che tra l'altro ultimamente sta dimostrando di essere abbastanza in forma. Il 2 per il Lecce è quotato a 2,40 e sicuramente sarebbe molto utile per la nostra squadra appunto per potersi rilanciare in zona playoff. Bene, a voi la scelta, io intanto vi aspetto a Lecce e inviato Luigi Surso per poter giocare e divertirci insieme.